Abbiamo concluso questo lungo ciclo di stage, di preparazione per gli europei del 2018, quindi il primo incontro alla Nazionale del Consolo, prima Pristina e poi Fallonica. Abbiamo lavorato bene, sono molto feliciosi, questi ragazzi sono carichi e molto ambiziosi, quindi se sapremo fare tutto quello che abbiamo fatto, dobbiamo farcela, dobbiamo essere presenti con il cuore, con la testa e arrivare poi a Fallonica un po' più tranquilli. Mi aspetto anche un grande pubblico a Fallonica che ci aiuti a fare una grande partita e oltre che a fare risultato anche a creare un po' di spettacolo per la palla madre.